Cari amici interisti, e non, cari amiche interiste e non, buongiorno e benvenuti o bentornati al Bar Inter, dove tutti possono dire la loro, purché lo facciano educatamente. Non importa di quale tifoseria siate, se ti fate Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, non mi interessa, purché tutto quello che dite sia detto educatamente, cioè senza insultare o prendere in giro l'Inter o il barista. Perché il barista si offende, dopo banna, capito? Va così, va così. Allora, innanzitutto, vi chiedo di iscrivervi al canale, fare questa cosa che mi aiuta molto nella crescita del canale, perché, voglio dire, spinge l'algoritmo di YouTube a dire, eh, questo qua, magari lo facciamo andare su, perché interessa quello che dice, c'è iscritti, molti iscritti, molti like, commenti, e poi cliccate anche sulla campanella per non perdervi i prossimi video che farò. Allora, argomento del giorno, argomento del momento, del momento, è soprattutto Jonathan David. Jonathan David o David, David, dite un po' come vi pare. Allora, poi dopo parliamo anche di Cialanoglu, che è argomento di ieri sera, di ieri sera. Allora, Jonathan David ha detto che lui vorrebbe tanto andare al Barcellona, che è la sua squadra del cuore. Lui ha sempre difatto il Barcellona e quindi gli piacerebbe un giorno, qualora, quando, no qualora, quando Lewandowski andasse in pensione o comunque fosse venduto, gli piacerebbe prendere il suo posto. Eh, è un pensiero che potrebbero avere in tanti attaccanti, quindi è anche comprensibile. Voglio dire, rispettiamo, naturalmente, è tifoso del Barcellona e quindi va benissimo, va benissimo. Solo che, innanzitutto, il Barcellona cosa dice? Lo vuole? Probabilmente sì, ma non è mica detto. Non è mica, voglio dire, prima di dire che andrà al Barcellona e che quindi non andrà né all'Inter e neanche alla Juventus, perché erano le due squadre perlomeno italiane che erano, dico erano perché ormai lui si è espresso, che lo volevano nel loro staff, diciamo così, nella loro squadra. Eh, beh, quindi staremo a vedere se il Barcellona dice sì, sì, mi piace Jonathan David, ce lo prendiamo e buonanotte. Però, e se invece non lo vogliono? Perché magari hanno altri progetti, magari hanno un altro Messi nella loro cantera, cantera, pardon, in cantiere. Eh, Jonathan David, io a questo punto, a questo punto rispetto assolutamente il suo affetto per il Barcellona, il suo amore per il Barcellona e del fatto che ne è tifoso. Però, a questo punto, dopo una dichiarazione come questa, io all'Inter non ce lo vorrei più. Non ce lo vorrei più. Non perché sono astioso e me la sono presa. Un po' sì. Un po' sì, però non è per quello. È che magari un giocatore che non è soddisfatto, che è insoddisfatto della squadra dove si trova, e cioè qualunque squadra a parte il Barcellona, potrebbe non rendere come dovrebbe rendere. Ma soprattutto, e questa è una cosa assolutamente da evitare, potrebbe in qualche modo minare la serenità dello spogliatoio. Che all'Inter lo spogliatoio è una cosa fantastica e va preservato così com'è, senza correre rischi. Però, ragazzi, questo è il mio timore nel caso in cui al Barcellona David non lo volessero e magari lui ripensasse al fatto di andare o la Juventus o l'Inter. Io non lo so. È un bravo attaccante, un grande attaccante, tanta roba, come si suol dire. Però, se deve venire a minarmi lo spogliatoio dell'Inter, preferisco che stia a casa sua. Questo è il mio pensiero. Ditemi come l'ha pensata. Oh, non c'è problema. Per me può stare dove si trova adesso. Ma veniamo a Cialanoglu. Allora, ieri sera, dichiarazione di Cialanoglu. La leggo, la leggo per non sbagliare. Ringrazio il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, per la comprensione. Ho scelto di restare qui, ma purtroppo domani non potrò prendere parte alla partita. Lo ricordiamo, Cialanoglu è reduce dall'infortunio che si è beccato durante la partita col Galles e così non può giocare perché è un infortunio. Un infortunio è una piccola cosa, però potrebbe essere sintomo di una cosa più grande, più grave e quindi meglio evitare movimenti pericolosi. E quindi probabilmente non giocherà neanche col Verona, sabato, domenica, sabato, domenica, non mi ricordo. Ah, ci guarderò. E tanto lo sapete già. Allora, io ho sentito commenti del tipo abbastanza irritato, commenti irritati del tipo irritato. Anche di Filippo Tramontana, si è espresso proprio con decisione, dice ma questi giocatori che vanno in nazionale ma sono pagati dalle squadre di club facendo riferimento a Cialanoglu, ma penso che lo si possa estendere a tutti i giocatori che fanno questa cosa, no? Allora, i giocatori devono innanzitutto accontentare le squadre di club perché sono quelli che lo pagano. Se poi dopo vogliono fare quello che gli pare andare in nazionale o comunque altri discorsi di questo genere che sia la nazionale di appartenenza a pagargli lo stipendio. Tecnicamente ineccepibile, voglio dire, tu vai via per dieci giorni dal club e vai a giocare nella nazionale quei dieci giorni te li dovrebbe pagare la nazionale, non il club. È vero, è giusto, giustissimo. Non fa una grinza, solo che stanno via dieci giorni, al massimo dieci, undici giorni, quello che è. Si parla di due settimane però rientrano prima dello scadere delle due settimane, quindi parliamo di una decina di giorni. Sarebbe giusto ma si farebbe anche la figura dei pezzenti, no? A me sembra che si farebbe la figura dei pezzenti. Voglio dire, stai lì a speculare per pochi spiccioli. Voglio dire, prendi lo stipendio anno e con lo stipendio anno gli togli quei dieci giorni, oggi, quei dieci giorni fra due o tre mesi, altri dieci giorni fra altri due o tre mesi. Insomma, sì, voglio dire, l'Inter è povera, una povera ricca, diciamo, una ricca povera, nel senso che OCTRI i soldi li ha e ne ha tantissimi, però non li vuole spendere, quindi è come se non li avesse. E quindi noi ci comportiamo come se fossimo una squadra povera. Però, fra essere poveri e essere pezzenti c'è una bella differenza. Noi non dobbiamo, non bisognerebbe giocarsi la dignità per pochi spiccioli, che sono tanti i soldi per noi comuni mortali, ma per loro sono pochi spiccioli. Quindi, giustamente, secondo me, Marotta si è interessato, ha chiesto quali erano i problemi, si è interessato al giocatore, al suo stato medico, fisico, medico, fisiologico, quello che è. In termini esattamente non sono sicuro quale sia. E però poi dopo ha detto, no, no, va bene, va bene. Anche perché, voglio dire, se cominciamo a fare questo tipo di discorsi, Cialanoglu ci rimane male. E dopo potrebbero non essere più lo stesso Cialanoglu che abbiamo avuto finora. Rigore sbagliato a parte. Uno su venti, ci può anche stare, no? È capitato in un brutto momento, però ci può stare. Va bene, comunque. Niente, io penso che Marotta abbia fatto bene a dire che va bene. Anche perché poi, se anche torna, col Verona non può giocare. Dobbiamo risparmiarlo. Perché magari lui non sente dolore in questo momento, però se poi dopo lo sente durante la partita, col Verona, quei tre giorni in più che può riposare prima dell'Ipsia, possono contare parecchio. E poi non può giocare comunque, perché tanto adesso non sta giocando e non si sta neanche allenando. Quindi arriva giovedì, ho sentito che arriva giovedì, e poi dopo cosa fa? Va in campo, senza essersi allenato. Allora sì che lo vogliamo rompere del tutto. No, no, per me va bene così. Pazienza sono cose che danno fastidio a tutti quanti, anche a me, perché non mi piace che Ciaranoglu non giochi col Verona. E non piace neanche a me che vada via e così. Però c'è da dire un'altra cosa, ragazzi. La bandiera. Ciaranoglu è un turco. E i turchi, a quanto credo, hanno un forte senso del patriottismo. Più di noi. Più di noi. Che noi non ne abbiamo tanto. Il patriottismo c'era una volta, adesso diciamo si è spento con i decenni, no con i secoli, con i decenni e adesso ce n'è molto, ma molto di meno. Quasi per niente. Infatti sento i commenti dei vari youtuber e questa sosta delle nazionali rompe le scatole. Cosa stiamo a perdere del tempo quando abbiamo il campionato, abbiamo la Champions. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Se voi non avete il senso del patriottico, il senso della patria, l'amor patrio, come si diceva una volta, parola che forse non avete mai neanche sentito dire, l'amor patrio, se voi non ce l'avete, va bene, non è mica obbligatorio avercelo. Pazienza. Ma altri ce l'hanno. E per quanto penso io, i turchi hanno un forte senso, un forte amor patrio. Poi, fra l'altro, essendo anche un popolo, diciamo, di natura guerriera, loro ci tengono molto alla bandiera, ci tengono molto a lottare per la loro bandiera. e se c'è la Noglu non può giocare, però può star lì, a dar manforte psicologica ai suoi compagni, lui lo vuol fare. Lo vuol fare. Noi siamo diversi, non siamo così, almeno qui in Italia siamo un po' diversi. Noi, quando, avete presente il finale del lino di Mameli, il canto degli italiani. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò sì. E ci mettiamo il sì, che non c'è. Ce l'abbiamo messo noi. Così magari, così ci sentiamo eroici, affermare con forza, però poi nella realtà, lo facciamo veramente? Non mi pare, visto che ci lamentiamo, se i giocatori vanno a giocare con la nazionale, non vorremmo che ci andassero, quindi non c'è molto amor patrio. Oh, mi riferisco al calcio naturalmente, non è che l'amor patrio si debba esprimere con, vado a fare la guerra, vado a morire per l'Italia. No, sto parlando di calcio, ragazzi, stiamo parlando di calcio, non cominciamo a fare discorsi, a fare commenti con discorsi, assurdi, stiamo parlando di calcio. Quindi l'amor patrio, secondo me, dovrebbe esprimersi anche in questo modo. Quando gioca l'Italia, gioca l'Italia. Siamo tutti fratelli italiani, tutti qua, non c'è più Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma, quello che è, Lazio, Fiorentina, non c'è più, c'è Italia. Questo, per questo motivo io, quando le squadre italiane giocano in Europa, io sostengo le squadre italiane, perché io ce l'ho questo amor patrio, va bene, io sono fiero di essere italiano, e amo l'Italia. Non so, so che questi discorsi possono essere un po' obsoleti, forse, perché adesso si pensa soltanto al proprio tornaconto personale, non più alla patria. Quindi, quando anche l'Italia gioca, si continuano a fare questi discorsi fra Inter, Juve, Milan, adesso c'è il blocco Inter, del quale io sono contento, perché, voglio dire, una volta c'era il blocco Juve, e tutti quanti pensavano, no, tutti italiani, ragazzi, tutti italiani, e loro, Salanoglu, loro sono turchi. Gli antichi ottomani, non so se ve li ricordate, quel popolo guerriero che stava per conquistare l'Europa, aveva fatto l'impero ottomano, erano i turchi, ragazzi, erano i turchi, mamma li turchi, grandi guerrieri, e loro sono così, sono così anche oggi, non più con la guerra, ma nel calcio si esprimono anche in questo modo. Stavano quasi per conquistare l'Europa, se non era per Scanderbeg, eroe nazionale albanese, ma anche d'Europa, l'Europa ha un eroe, il suo eroe nazionale è, nazionale di tutta l'Europa, è Scanderbeg. E' detto all'albanese Scanderbeg, ok, che da solo quasi ha fermato l'impero ottomano nel quindicesimo secolo. ho fatto anche una canzone in albanese, l'ho cantata, l'ho fatta, composta, cantata in albanese, io, per rendere omaggio a questo grande eroe, che è il mio eroe. Vi metto magari il link in descrizione, se volete andarla a sentire. Se no, no, è lo stesso, voglio dire. Così, se vi togliete l'osfizio di sentirmi cantare in albanese. Vabbè, vabbè, si chiama proprio Scanderbeg, non mi ricordo se l'ho scritto in albanese o all'italiana, comunque ci sono sotto i sottotitoli in italiano, quindi potete capire quello che dico. Va bene, scusate per questa parentesi che io trovo divertente. Va bene, allora, ragazzi, quindi, comprensione per Cialanoglu, lui è il nostro Ciala e basta. Jonathan David, che vada dove vuole, io non lo so, ci sono rimasto un po' così. Dico, beh, non sa ancora se lo vorranno al Barcellona e dice che ci vuole andare. Probabilmente è convinto di essere il migliore attaccante del mondo. Probabilmente lo sarà anche, lo diventerà anche, non lo so, non lo so, non lo so. Comunque, ognuno, dica quello che crede nei commenti, dica quello che pensa nei commenti. con rispetto, ragazzi, senza insultare, lo ripeto per l'ennesima volta, chi insulta? Me, il barista. O l'Inter viene bannato, ok? Ok? Esprimete quello che pensate senza insultare, non è mica così complicato, voglio dire, uno si impegna un attimo, scrive tutto quello che vorrebbe scrivere, poi toglie gli insulti, se ce ne ha messi, e viene fuori un discorso sensato e accettabile, ok? Salute e Burderi e Forza Inter, ciao!